Martedì 6 luglio si è tenuto un incontro online nell'ambito degli eventi di Economio Francesco, durante il quale è stato presentato l'ultimo libro scritto dal Vescovo Domenico intitolato Francesco D'Assisi e l'economia della fraternità, per ripartire dagli ultimi. All'incontro sono intervenuti, insieme all'autore, Luigino Bruni, professore ordinario Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue Moderne all'Università Lunsa, e Francesca Di Maolo, presidente dell'Istituto Serafico. A moderato Enzo Romeo, giornalista vaticanista del Tg2.